Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Anche Belen Rodriguez e l'ex marito e ora nuovamente compagno di vita Stefano De Martino, non hanno saputo resistere alla tentazione molto forte insita in ognuno di noi di un tuffo nel passato ritornando bambini per un po'. Il loro fanciullino, di pascoliana memoria, ha parlato e loro lo hanno tosto ascoltato Belen e Stefano come due bambinoni cresciuti immortalati in un video social che ha subito fatto il giro della rete Dolcissimi come non mai hanno conquistato davvero tutti. Una vera gioia per gli occhi e una splendida coccola per il cuore Belen e Stefano, meravigliosi e spensierati.Belen Rodriguez e l'ex marito Stefano De Martino sono tornati insieme per la terza volta e ora il loro amore sembra resistere gagliardamente, anche e soprattutto per la gioia, davvero immensa, del piccolo Santiago, che ora può godere di nuovo di una famiglia unita e allargata Insomma, possiamo ben dire che i due ne abbiano passate davvero, ma davvero tante in tempi recenti, ragion per cui hanno anche optato per prendersi un momento di svago e di mera serenità Meravigliosi e spensierati come non mai ammagliano i fan in un video social che è diventato in mente non si dica virale Come due bambini felici al parco.I due sono stati immortalati in un video, con molta probabilità girato dallo stesso Santiago, dove sono intenti a dilettarsi ad una semplice attrazione in un parco giochi, peraltro di quelle particolarmente gettonate dai ragazzini e non solo del giorno d'oggi, dove si tratta di lasciarsi trasportare a tutta velocità a lungo una sorta di ski lift a secco che scorre lungo un cavo teso fra due strutture Un divertimento decisamente avventuroso che a quanto pare li ha fatti divertire come matti, proprio come due bambini felici I fan felicissimi per loro.I loro commenti più dolci.Due bambini felici recita proprio la didascalia Non per nulla non possono affatto sfuggire le espressioni divertite dei due mentre attraversano a folle velocità il percorso lungo il cavo Sono abbracciati stretti al fine di rimanere saldamente aggrappati al supporto che consente loro di effettuare il percorso, dove si stanno letteralmente sbellicando dalle risate Vederli così è certamente stata un'immensa gioia per chi da tempo sognava di rivederli finalmente ancora una volta tanto uniti Non è mancata poi un'autentica pioggia di like e di commenti più che positivi, alcuni dei quali augurano loro di rimanere felici e spensierati, oltre che innamorati, il più a lungo possibile Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video